benvenuti al pala radi di cremona questa è vanoli cremona dolomiti energia trento prima gara del girone di ritorno sedicesima giornata di lbh attacca fecchia fa saltare ma e stefens va su segna subisce il pallo 2 più 1 con una mano il pallone rischia di perderlo qui poi rimane occupato con golden e ributta fuori per ellis da tre punti la tripla di quinellis da lei si è ancora da lontanissimo tre vorlesi fuori per udon extra pensa alviti la stoppata di edrian c'è ancora alviti bold incipensa anche lui poi c'è il tiro a toto forrai zagharovski rischia tantissimo zanotti si mette a posto tripla di liga la ascia lì great golden e l'inchioda due si intorno dal numero sei si chiude l'alto basso tra denegri golden golden ancora lì la calcentro è l'es ribalta per forrai che torna in punta da boldo indietro la schiena poi pirata difficilissimo grassiulis scala bene forrai lesi finta sidestep trevor lesi stiamo dipendendo loro buoni tiri forse qualche tiro lasciato troppo spazio però devo dire che in difesa ci stiamo dando tanto e in attacco i risultati si vedono quindi continuare così basta si torna da lesi gioca due con golden fino in fondo lesi tiene dietro mai stefens trevor lesi il turno del 44 ultimi otto secondi in un modo o nell'altro kamar boldwin ultimi cinque secondi ancora lesi attacca in angolo mcologhi levemente in ritardo kamar boldwin la palla è persa la prende al viti ellis lascia lì grand golden due più uno anche per queen ellis momento di sbandamento di cremona forte udon mccolo schiaccia per terra la prende udon c'è grand golden lì sotto segna ancora sicuramente sarà lui a prendersi l'ultimo tiro di questo terzo quarto dietro la schiena tripla di queen ellis per chiudere il terzo periodo udon riceve fa saltare zanotti attacca fino in fondo si fa vedere forrai al viti da tre punti importante davide al viti denegri guarda canestro ci pensa spara udon parte sul fondo chiude zanotti al viti mccolo se lo scorda lesi finta blocco edrian udon lesi di esperienza che taglio di piccoli pecchia al back door lascia lì per picco l'extra pass edrian bellissima pallano look di edrian per pecchia attacca pecchia fino in fondo assorbe il contatto segna andrea pecchia parziale di 8 a 0 che verosimilmente chiude la partita vince la vanoli cremona 99 a 80 contro la dolomiti energia trentino questa partita era importante soprattutto tutte le partite in casa che sia trento milano vistoia tutte le partite che giochiamo dobbiamo dare cento per 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 cent